Eccola, l'ho strappata a Thanatos mentre cercava di trascinarla nel mondo degli inferi, toccala se vuole. Adneto restò senza fiato, poi disse, ma perché non parla? E perché non si è ancora liberata dal contatto con la morte? E come se avesse detto, quella, no è morta, è morta di fresco, che vuoi che già parla? Parlerà al terzo giorno e così accadde e furono felici per sempre. Parlerà al terzo giorno e così accadde. Parlerà al terzo giorno e così accadde. Parlerà al terzo giorno e così accadde. Parlerà al terzo giorno e così accadde.